I poliziotti della Questura di Caltanissetta e della Specialità della Polizia di Stato della provincia nissena, sotto l'attenta guida degli istruttori di tiro, hanno partecipato a giornate di addestramento professionale allenandosi al poligono di tiro. L'istruttore di tiro è il punto di riferimento per chi si esercita. La sua attenzione è indirizzata alla puntuale osservanza delle norme di sicurezza da parte degli agenti chiamati all'esercitazione con le armi. Nel corso dell'esercitazione, così come nella quotidiana attività operativa, è importante saper gestire le emozioni nel rapporto con l'arma per trovare concentrazione, stabilità e precisione. Gli istruttori di tiro sono poliziotti che dopo una selezione sono avviati a frequentare un particolare corso di specializzazione di qualche mese per affinare attitudini già presenti. Gli istruttori, infatti, non devono essere bravi soltanto a sparare, manca ad insegnare e quindi a trasmettere le nozioni e le tecniche che il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro della Polizia di Stato di Nettuno studia e affina costantemente. Grazie. Grazie.